buongiorno amici buongiorno amiche salutiamo pasqui che ci ospita nel suo canale youtube e oggi andiamo a recensire il dongle android auto wireless a mio parere migliore in circolazione qualità prezzo e adesso siamo collegati ad android auto wireless come vedete io sto visualizzando nel cruscotto della mia auto la riproduzione delle news vedete identico nella mia autoradio c'è in in riproduzione l'applicazione news chiaramente vanno tutte le applicazioni possibili di android auto che conoscete vedete il sistema è scattante e senza e senza lag un attimo se si apre spotify eccolo qua allora qual è questo dongle che come tanti altri che abbiamo visto ci fa buttare via il cavo e ci fa utilizzare android auto senza cavo abbiamo provato vari dongle della 8 cast del a wireless di carlin kit ma adesso andiamo a testare anzi io ho già testato questo dongle qua che vi metterò in descrizione questo dongle è sbarcato su amazon lo stiamo provando credo primi in italia ma comunque è un primato che non ha importanza e vi posso dire che qualità prezzo non ha rivali perché è velocissimo a collegarsi non perde la connessione agli aggiornamenti ota ed ha la possibilità di cambiare anche il canale del wifi quindi qualora voi doveste avere delle disconnessioni potete cambiare il canale del wifi vi metterò in descrizione il manuale di istruzioni con anche la procedura di aggiornamento del firmware che però ad oggi io non ho trovato aggiornamenti perché è appena uscito il prodotto come vi ripeto con una spesa irrisoria sui 50 euro buttate il cavo e funziona perfettamente come se il cellulare fosse fosse connesso via cavo a mio parere per il 2024 che appena iniziato questo qui sarà un best un best buy vi ricordo che questo prodotto non ha nulla a che vedere con i box con che hanno il play store o che hanno netflix e youtube integrato quelli sono tutto un altro prodotto che hanno altri prezzi e che però sfruttano il modulo carplay quindi mi raccomando andate a vedere anche gli altri video presenti nel canale per capire la differenza tra questo prodotto e altri prodotti quindi se voi volete solo buttare il cavo e avere android auto wireless senza dubbio prendete questo che vi sto recensendo oggi se invece volete un box che abbia il play store che vi permetta di installare le apk che insomma faccia una funzione più più completa o comunque sicuramente diversa andate a vedere i gli altri video nel canale vediamo se funziona il assistente vocale previsioni meteo domani a milano a milano domani sarà parzialmente nuvoloso con una massima di 8 gradi e una minima di meno 2 l'assistente vocale funziona funzionano le telefonate funziona tutto quindi una recensione breve ma significativa perché questo qui con molta probabilità diventerà il dongle che utilizzerò tutti i giorni vedete anche dotato di un piccolo led che in questo momento è fisso ma mi pare che quando cerca il segnale pinga lui è fulminio voi entrate in auto girate la chiave lui è già connesso ad android auto è veramente mostruoso più veloce di a wireless più veloce di carlin kit 2a più veloce di fulmine più veloce di tutti grandissimo prodotto io avevo ero scettico quando l'ho visto pensavo fosse una chiavetta come tante altre invece attualmente diventa il migliore sul mercato ciao